Buonasera da Etg Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro notiziario. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito etvmarche.it e sulla nostra pagina facebook di ATV. In apertura la cronaca o meglio il meteo che si lega alla cronaca e la previsione di una domenica bollente sulle Marche. Ondate di calore e temperature fino a 37 gradi anche se le percepite potrebbero arrivare fino a 40. Allerta meteo della protezione civile delle Marche. Saliranno a 36 gradi domani domenica 7 luglio le temperature massime nelle principali città delle Marche. L'ho annunciato un bollettino di allerta meteo della protezione civile per ondate di calore con allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo 3 ad Ancona e 2 in altri vari punti delle quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a 37 gradi ad Ascoli, Fermo e Macerata, 36 gradi a Pesaro e Ancona ma quella percepita potrebbe arrivare fino a 40. Nel capoluogo sotto la supervisione dell'assessorato alle politiche sociali e sanità della Comune del tavolo di coordinamento composto da istituzioni e associazioni è attivo da giugno fino a settembre il piano operativo sull'ondate di calore. La raccomandazione che l'amministrazione comunale rivolge, in particolare agli anziani, è come di consueto quella di bere molto e evitare di uscire di casa nelle ore centrali, le più calde, ad eventuali richieste di informazioni e assistenza è a disposizione 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19, il numero verde del servizio Helios 800 450 020. La calura domenicale lascerà ben presto spazio in generale peggioramento del meteo. Dalla seconda parte della giornata di domani è infatti previsto cielo fino al primo pomeriggio sereno o al più poco nuvoloso, con attività cumuliforme e confinate ai settori interni. Nel corso del pomeriggio aumento dell'attività nuvolosa a partire dai settori settentrionali, in transito nel corso della sera verso sud, con rovescio temporale inizialmente a nord in graduale espansione verso i settori centrali e localmente ulteriormente verso quelli meridionali. Localmente i fenomeni potranno anche risultare di forte intensità. Nelle giornate di lunedì e martedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali diffuse su tutte le marche. Anche mercoledì le previsioni sono all'insegna dell'instabilità, mentre si osserva un graduale miglioramento a partire dalla seconda metà della settimana. La cronaca ora si era già reciso i polsi ed aspettava di fatto la morte a bordo della sua auto, fermo in una piazzola di sosta al chilometro 189 sulla 14, in carreggiata a nord, una quarantenne marocchino che risiede nel fermano. L'intento però è stato sventato dalla tempestività e dalla professionalità di due operatori, due poliziotti in servizio presso la sezione Polizia Stradale di Pesaro impegnati a pattugliare la zona. In particolare l'esperienza degli agenti della specialità e la loro abilità nel coordinare i soccorsi hanno consentito di salvare l'uomo che già privo di sensi e riverso nel suo sangue è stato letteralmente strappato appunto al decesso, ma l'assistenza prestata dai poliziotti non si è fermata a provocare l'immediato ricovero dell'uomo con conseguente recupero delle sue funzioni vitali perché nelle successive ore gli stessi agenti hanno contattato i congiunti dello sventurato, un figlio di una moglie in attesa di un secondo bimbo che sarebbero poi rimasti soli se l'uomo fosse riuscito nel suo intento e in questo modo hanno continuato a seguire la vicenda nel tentativo di supportare il recupero di una normalità nella famiglia del marocchino. Frantuma la vetrina nel tentativo di scassinare un negozio di assistenza computer a Falconara ma si ferisce gravemente al polpaccio destro con un vetro e viene arrestato dai carabinieri quanto accaduto nella notte sulla Flaminia, un 22enne marocchino già arrestato nel 2018 per una tentata rapina in tabaccheria e poi per l'evasione dagli arresti domiciliari bloccato dai militari della tenenza di Falconara per l'accusa di furto aggravato. Dopo la segnalazione di un passante i carabinieri hanno seguito la scia di sangue che partiva dalla vetrina e proseguiva nel sottopassaggio piattaforma Bedetti. Hanno trovato il giovane in spiaggia ansimante per la copiosa perdita ematica e poi è stato portato all'ospedale Torrette di Ancona dove è stato sottoposto ad un'operazione, ad un intervento chirurgico. Sempre per la cronaca torniamo a parlare di un'operazione svolta dalla polizia a Senigallia, un blitz in due appartamenti, sequestrato netto in mezzo di cocaina purissima, in arresto un operaio albanese di 46 anni che lavora in un albergo della città. L'home è finito in cella montacuto per detenzione di stupefacenti affini di spaccio. L'operazione della polizia che ha anche permesso di sequestrare 8.000 euro in contanti è partita questa mattina con gli agenti del commissariato di Senigallia coadjuvati dalla squadra mobile di Ancona e dall'unità cinofila. Stando alle indagini l'uomo approfittando del fatto che lavorava a contatto con numerosi turisti, aveva intrapreso una ricca attività di spaccio di cocaina venduta a 100 euro al grammo. Gli inquirenti ritengono che lo stupefacente sequestrato fosse destinato a soddisfare la richiesta di droga da destinare alla movida senigallese. Questa mattina al blitz dei poliziotti che hanno prelevato l'albanese sul luogo di lavoro lo hanno condotto nei due appartamenti dei quali dispone. La perquisizione è durata circa tre ore, eseguita anche con l'ausilio dei cani e si è svolta anche in due auto di proprietà del 46enne. In tutto questo è stato rinvenuto un ente e mezzo di cocaina all'interno delle due auto e nei due appartamenti. La abitazione in uso all'albanese ha fatto scoprire altre dosi di cocaina, gran parte degli 8 mila euro sequestrati. In casa della madre invece i poliziotti hanno rinvenuto altra droga e ulteriori contanti. Durante la perquisizione sono saltati fuori anche numerosi manoscritti con nomi, pesi, cifre, visti gli esiti. Dunque è scattato l'arresto e l'uomo è stato condotto nel carcere di Montacuto. Cambiamo argomento ora, primo giorno di Saldi Estivi al Via Nelle Marche, in alcune città si proseguirà fino alla mezzanotte con l'iniziativa Saldi sotto le stelle. Siamo in giro per i Saldi, da Sniper, Calzedonia siamo passati, ci stanno ottimi sconti. Di tutto, trucchi, vestiti, un po' di tutto. Saldi estivi, giorno 1, il sole e le temperature finalmente davvero estive non hanno scoraggiato la prima mattinata di shopping scontato, senza dimenticare i prolungamenti sotto le stelle e quindi fino alla mezzanotte in alcune città come Ancona o Fano. L'obiettivo è far ripartire la corsa allo shopping, commenta Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche Centrali, visto che i dati che emergono nei primi mesi di quest'anno delineano una certa debolezza del settore. I commercianti dal canto loro sperano di rialzare le vendite e gli affari, mentre ogni anno si ripropone la riflessione sull'opportunità di una data unica per tutti, piuttosto che una sorta di liberalizzazione ai ribassi. Se serve qualcosa sì, ma non per forza, insomma solo perché ci sono i saldi. Non per sfogo, assolutamente. Se ci serve qualcosa sì, ma se ne approfitta, ma non perché così, non per hobby, fare shopping così. Il shopping conclusivo non è più da noi, no, però insomma, poi c'è anche caldo, bisogna andare al mare. Ho trovato quello che cercavo e ho apposto. Quello che trovo, trovo, non c'è un limite per adesso, quindi. Abbiamo aspettato che iniziassero i saldi, prima abbiamo fatto un giro per l'ustrativo per vedere un po' la zona. Quello che è in saldo attira di più. Rimangono validi i soliti accorgimenti. Conservare sempre lo scontrino per un eventuale cambio in caso l'entusiasmo abbia portato ad acquisti troppo audaci. Attenzione alle rimanenze di magazzino per evitare di farsi rifilare capi che magari stazionano da anni in attesa di un acquirente e di fidare dallo sconto eccessivo quelli superiori al 50% dovrebbero far accendere un campanello d'allarme. Aspettiamo acquisti fuori dai negozi come tutti gli anni. Siccome noi maschietti i negozi ci stanno un po' stretti, aspettiamo sempre fuori, con molta pazienza, in compagnia del cane che non ci lascia mai. E l'importante è che ci sia l'ombra? Sempre, quella sempre, perché è caldo troppo. A treia l'ultimo giorno invece del seminario estivo di Simbola Empatia e Tecnologia e lo sguardo dunque su come costruire il futuro con l'intervento del Presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia. Passare dalla stagione del conflitto a quella che abbiamo chiamato la collaborazione per la competitività. essere consapevoli della fase delicata che il Paese vive e che l'economia globale sta vivendo e compattarci per un fine comune, mettendo al centro occupazione, lavoro e giovani. La politica del lavoro sia mission del Paese, incremento occupazionale, inclusione a partire dai giovani, politica infrastrutturale. Così il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla giornata conclusiva del seminario di Simbola a treia. C'è un paradosso in Italia, proseguito. I corpi intermedi sembrano partiti perché parlano di progetti Paese e i partiti sembrano i corpi intermedi perché fanno il contratto di governo sui vari aspetti. Uno di quelli al centro del dibattito a Simbola è stato il futuro, da costruire con due armi, empatia e tecnologia, come a dire non staccare l'economia dalle radici territoriali. L'Italia quando perde il rapporto con la sua storia, con la sua cultura, con i territori, con le comunità e lo vediamo anche qui, nel posto dove stiamo, lo vediamo in tutta Italia e lo vediamo dalle grandi imprese italiane che sfidano il mondo proprio perché hanno forti le loro radici, si indebolisce. Noi non possiamo usare i modelli degli altri per costruire la nostra economia. La soluzione è passare dalla gestione delle emergenze che chiaramente vanno gestite a quella che è l'attrattività del Paese in chiave industriale. Recuperare investimenti, competitività del Paese, mercati globali sono mercati di niccia e mercati di niccia sono mercati per noi italiani. Siamo la seconda manifattura d'Europa ma questa posizione va conquistata giorno dopo giorno. Occorre una politica economica coerente con una visione di Paese di medio termine e chiaramente l'industria deve fare il suo all'interno delle proprie fabbriche ma occorre che poi si sia competitivi anche al di fuori dei cancelli delle fabbriche italiane. La questione industriale in un Paese che non ha materie prime e fonti energetiche è determinante per le soluzioni e per le riduzioni ed eliminazioni dei divari all'interno del Paese. C'è una grande domanda di Italia nel mondo. Noi abbiamo tanti punti di forza ma gli italiani non lo sanno, non ne sono convinti, non ragionano come se fossero Calimero, il pulcino di una reclam di tanti anni fa. E nella tavola rotonda conclusiva, intorno al tema del convegno, da soli non si può empatia e tecnologia per affrontare il futuro, mondi diversi si sono confrontati proprio intorno all'idea che l'Italia ce la fa se fa l'Italia, se scommette sull'innovazione, sulla qualità, sulla bellezza, sulla coesione, se non lascia solo nessuno, se non lascia indietro nessuno e se è anche la punta di diamante assieme all'Europa della sfida che affronta la crisi climatica, che sarà importantissima anche per l'economia. Parliamo ora di sport con una doppia presentazione. Intanto il calcio con il bagno di folla che ha salutato il Montero Day. Paolo Montero, il nuovo allenatore della San Benedettese, accolto appunto nell'auditorium del comune della città delle Palme, ha parlato anche in conferenza stampa, toccando alcuni aspetti su tutti, chiaramente quello del suo rientro in Italia in qualità di allenatore della San Benedettese, l'Italia come suo secondo paese, la voglia di dare e di prendere in mano le redini della San, di costruire una squadra capace anche di divertire e di applicare del bel gioco. Grande entusiasmo dunque per il Montero Day, come grande entusiasmo ieri a Civitanova anche per Simone Anzani, nuovo centrale della Lube, presentato a stampa e tifosi in riva al mare presso lo chalet Cala Maretto, tanta gente lo ha accolto, lo ha salutato e lui ha ricambiato intanto con un grazie e poi ha detto sono davvero emozionato perché non mi aspettavo tanta gente e un entusiasmo così. Avrò di sicuro una spinta in più per la mia nuova avventura con la maglia della Lube, giocherò con lo scudetto sul petto, un onore. So che ripetersi non è facile e ogni stagione fa storia a sé, ma bisogna essere consapevoli delle nostre possibilità, possiamo fare ottime cose. Civitanova che intanto da questa sera abbraccerà anche la nazionale azzurra del CT, nonché ex coach della Lube, Chico Blengini, una nazionale azzurra che si preparerà in ritiro per i prossimi 20 giorni circa in vista degli appuntamenti di agosto a Bari con il girone di qualificazione preolimpica. E dunque Civitanova che diventa in questo momento il centro, la base del volley azzurro con le presenze oltre che di Anzani anche di Juan Torena e di Balaso, giocatori Lube ma in questo momento con la maglia della nazionale azzurra. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarque.it è tutto invece per questa edizione, grazie dunque dell'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci.